Siamo qui all'interno di una saletta carinissima in un posto magico di Napoli che è il Grand Hotel Parkers e sono con Antonio Maiorino Marrazzo, direttore di questo splendido luogo a un'eccellenza campana, per raccontare qualcosa di molto particolare. Sulla facciata dell'hotel tutti avranno potuto osservare che ci sono degli stracci, dei pezzi di cruciverba, parole crociate insubordinate create da te. Sono di una particolarità incredibile perché non hanno numerazioni, perché è già composto, però qui all'interno dell'hotel ci sono le definizioni. Esatto, in effetti abbiamo creato questa installazione, è un cruciverba, come hai già detto, insubordinato, nel senso che per metterci in contatto con la città abbiamo creato, personalmente ho creato questo cruciverba costruendolo nelle definizioni, però mettere un cruciverba vuoto all'esterno dell'albergo sarebbe stato un po' folle perché avremmo dovuto poi ricomporlo di volta in volta ogni volta che gli ospiti avrebbero indovinato. In questo caso invece abbiamo immaginato di mettere all'esterno tutte le definizioni, quindi è già completato e l'idea invece è quella di entrare in albergo, quindi vedere le definizioni che sono qui al bitters, al nostro bar e poi trovare la soluzione all'interno delle definizioni del cruciverba. Quindi il gioco è di trovare il numero e se la definizione, o meglio la soluzione, è quella verticale o orizzontale. Quindi è un po' all'inverso abbiamo pensato. Un gioco nel gioco. Un gioco nel gioco. Un'inizione però poi particolari queste definizioni perché non sono definizioni di qualsiasi tipo di cultura generale ma sono sempre strettamente collegate alla nascita di questo posto meraviglioso. Infatti è un cruciverba sostanzialmente narrante, narra la storia di questo albergo che è il più antico della città del 1870, il 5 stelle russo più antico della città. narra di ovviamente non tutti gli ospiti che sono stati, che sono passati di qui ma di quelli che io consideravo i più importanti come Virginia Woolf, Oscar Wilde, Arthur Zweig, Carosone che suonava qui. Quindi ogni definizione è in relazione sia alla città sia agli ospiti che abbiamo avuto in questo albergo. Come ti è venuto un'idea del genere? È vero che tu, non so che hai la passione, non sei una persona che ama la cultura, ora il modo giusto di vericolare la cultura, però mettersi lì a pensare, insomma voglio dire, potevi pensare a qualsiasi altra cosa, perché proprio questa? Penso sia stata proprio una sorta di intuizione, immaginare di avere questo gioco all'esterno, ho pensato al cruciverba perché mi piaceva come idea del gioco, mi piaceva anche l'idea dell'orizzonte verticale, giocare con l'orizzonte, noi sappiamo bene che in questo albergo abbiamo una delle viste più belle della città, vediamo dal Vesuvio all'isola di Capri, abbracciamo il golfo e quindi pensavo a qualcosa che fosse verticale sulla facciata, ma chiedesse anche questo senso di orizzontalità, per cui ho pensato, orizzontale, verticale, il cruciverba. Da lì, da questa piccola intuizione, poi è nata tutta la costruzione del progetto, che è stato molto complesso ovviamente, non mi ero mai cimentato prima nella costruzione di un cruciverba, generalmente lo risolviamo il cruciverba, questa volta qui ho dovuto giocare al contrario, cioè costruirlo, è cosa non semplice, però devo dire che poi è stato molto divertente, ci ho passato un po' di ore di notte a giocare con le definizioni e con le soluzioni, con la storia dell'albergo chiaramente tra le mani, per capire chi fosse stato qui nel passato e come giocare con queste vite che hanno attraversato questo albergo, al punto che quando quest'opera poi è stata vista da Bartezzaghi, che noi sappiamo che è uno dei più grandi enigmisti della storia italiana, l'ha visto e ha deciso di venire qui, proprio a verificare di persona come fosse questo lavoro, quest'opera sulla facciata dell'albergo e ha anche presentato un suo libro qui da noi, quindi è stato un felice incontro. Felice incontro è stato anche quello di poter leggere sul New York Times una notizia, una pagina dedicata, scusate, è una pagina dedicata al cruciverba che di volta in volta va a diventare più difficile e l'autrice, che è una giornalista, ha twittato facendo riferimento alla facciata dell'Ote con questo cruciverba da te inventato. Sì, infatti venerdì scorso la Deb Hamlin, che è una delle redattrici della pagina dei cruciverba, che è una delle più famose al mondo perché da lunedì alla domenica diventa lunedì semplice, poi la domenica è complicatissima. Deb Hamlin ha notato questo lavoro, quest'opera, l'ha intercettata e ce l'ha twittata chiedendo a chi passasse da Napoli di venire a visitare quest'opera. Quindi per noi è stato veramente stupefacente vedere intanto il nostro albergo su questo tweet di un giornale così prestigioso, ma sembrerebbe che Deb Hamlin abbia chiesto anche al capo redattore della pagina del New York Times, della pagina del wordplay, cioè dei giochi di parole, di scrivere un articolo. Quindi probabilmente ne faranno anche un approfondimento. Allora, in attesa che lo faccia il New York Times, lo sto facendo io, sto io intervistando Antonio Maionini e ne sono felicissima. So che non c'entra con l'argomento che è legato al cruciverba, l'evento, però nel senso che tu fai autore, tu ideatore, tu creatore, ci hai fatto le nottate, insomma. Scegliere di fare un lavoro del genere in un luogo che è veramente un super fiore all'occhiello per la città di Napoli, tra l'altro che la guarda veramente a 360 gradi quasi, insomma, se saliamo sopra è un cerchio magico. Quante le soddisfazioni, ma anche il gravio, la responsabilità in compensazione ed è la cosa che ti gratifica? Beh, la cosa mi gratifica guidare l'albergo, secondo me, più prestigioso di questa città. È sempre stato, diciamo, l'albergo della punta, l'eccellenza delle hotellerie napoletane, quindi chiaramente è una grande responsabilità e ne consegue che se l'albergo poi ha un felice risultato sia in termini di piacere che hanno i nostri ospiti di stare qui da noi, coloro che vengono qui a cena, perché molta clientela napoletana viene qui a cena la sera oppure a fare l'aperitivo e sapere che possono essere coccolati, amati e veramente essere parte integrante di questa città, sia come albergo, sia vedere proprio che i napoletani amano questo albergo che è sempre visto un po' anche un po' non distante, ma un po' ha questa particolarità, il Parkers, non è lì nel centro dove tutto accade, dove c'è, diciamo, anche un po' quello che è le vibrazioni della città. Qui diventa una sorta di genius loci dove ci si può riposare, dove si può guardare la città a volo d'uccello dall'alto e chiaramente questa è una grande soddisfazione e vengo compensato di questo lavoro che faccio da questa soddisfazione che ci ritorna ogni giorno dalla città e dai nostri ospiti. Allora, in attesa di rivederci con Antonio quanto prima, io lo ringrazio pubblicamente perché ci darà l'opportunità di postare al seguito di questa intervista video il cruciverba con le definizioni che sono all'interno, quindi per quanti insomma vorranno anche poter venire qui insomma a prendere un aperitivo e vederli dal vivo, nel frattempo le potranno vedere dal corso Vittorio Emanuele. Io mi vado a guardare questo panano macabre incantevole. Il Vesuvio stamattina ha un po' di roghi insomma perché il caldo è intenso, però veramente grazie Antonio per quello che fai, perché fare anche le nottate, perché si vuole dare ancora di più un piccolo tassello, è il caso di dire, alla cultura giocando con un fulcro della città è qualcosa di ammirevole. Grazie mille. Grazie a voi per essere stati qui da noi.